amici oggi sto per mangiare una vera delizia riso al curry vedete qua con la carne piccante buonissimo con la frutta pesche poi si mette anche ananas una delizia una specialità indiana riso al curry buonissimo il riso è il basmati quello che vedete qua prodotto in india questo riso è un riso allungato ve lo faccio vedere vedete vedete è molto più allungato il riso è un riso molto più allungato praticamente è più leggero più soffice e può evitare anche il cancro al colon perché questo perché questo riso pulisce l'interno è molto differente dall'altro riso l'altro riso potrebbe anche fare lo stesso ma è più pesante quindi io considero questo riso e si dice che è il migliore del mondo i basmati come leggerezza si può mangiare spesso perché pulisce l'interno è buonissimo specialmente questo piatto che è favoloso che vorrei mangiarlo subito perché ho appetito ve lo consiglio di farlo così poi lo potete fare come voi volete no comunque il riso basmati è il migliore del mondo ve lo garantisco provatelo ok vi saluto dj david lacoste vai grazie a tutti Grazie a tutti.